Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Codvein Bene ce l'ho fatto, ho farmato avanti e dietro avanti e dietro Guarda quanti foschi, io ho 468.000 Finchè è arrivato appunto dove eravamo rimasti E non è che sono andato avanti Lì c'è la zona da tirare la leva che non ho ancora tirato E niente, ho aspettato finchè effettivamente Le abilità non fossero mie per poterle cambiare Perché finalmente era ora Abbiamo detto che noi per il... Non ricordo più qual era, era questo Sì, assassino, perfetto Noi andiamo a cambiare alcune cose Dunque questo qui va bene Questo qui forte d'estetà lo possiamo cambiare con Dunque l'icora adesso non ci serve Questo ci servirà per il coso Però forza di volontà e senno Vabbè questi li teniamo per... Questi quattro sono quelli che assegneremo per il nostro build Per il... come si chiama? Per il boss, per i boss Invece la build che utilizzeremo per le Savi Suga Penso che andrà benissimo questa qui Che il prosegamento è più alto Esatto Il prosegamento è molto più alto Quindi perché l'altra era questa Non ricordo quale Quindi sì Sono contento Anche perché Così facendo Abbiamo meno problemi di fare il boss Spero, credo E con tutto il cuore lo spero tantissimo Queste qui Adesso le posso anche cambiare E metterci Che ne so Vediamo cosa fa Tanto l'icora alla fine O neanche lo uso Quindi io Fare così Facciamo così Facciamo così E magari lascio Questa qui per lei Che non si sa mai Perché tanto Finché non abbiamo il boss Non serve un cazzo usare niente Sono messo come porco Lo so Dove tornare indietro per livellare Ma intanto apriamo la porta Dai così almeno facciamo qualcosa Apriamo questa porta Perché devo livellare assolutamente ragazzi Se no Non ce la faccio Andrò avanti così Su palito del policor Non ce la faccio Abbiamo aperto una porta Ci sale Non sa dove porta sta porta Non butto a posto Allora vediamo dove porta questo Magari c'è un shortcut Qualcosa Io lo spero tanto Perché Ho un vischio Perché non abbiamo trovato ancora niente La cosa mi preoccupa un pochino Perché ho sfruttato abbastanza Come avete visto E non c'è ancora un cazzo Quindi Oh Salve Addirittura Ideale per guerrieri Incentrati sulla forza Con fiscendori che aiutano a sopravvivere Eh Questo non mi interessa A me perché io non sono sulla forza Però cavolo Ottimo Ottimo davvero Beh sono contento Dai Ok Andiamo con cautela Mi sono bloccato Con cautela Perché non sappiamo cosa c'è E morire qui un attimo Perché sono tanti bei posti Dove si può cadere Siete proprio gentili Io adoro questi posti Dove è facile cadere Perché cado sempre Mi viene da presumere Che io debba salire Quindi la secondaria Può darsi che sia questa Speriamo bene Perché ragazzi Mi sto caccando in mano È un posto chiuso Mi piace già di più Vediamo cosa fa Salve Allora vediamo qua Eh no Mi stavo pensando di Usare gli incantesimi Ma ovviamente Non li uso Poverino Poverino Cazzo Mi hai fatto malo Devo Eh Prenditi alle spalle Ok Vai Oh Devo toglirti tutta la vita Perché tu te lo meriti Oh 3.900 ragazzi Quanto facciamo È una libidine Veramente Quei fiocchi proprio Oh Guarda cosa costudiva Vediamo Acciaio Oh Le mappe È vero che ne abbiamo trovato Anche un'altra Non è Che cazzo L'aveva vista sta cosa qui Ah non l'avevo certo visto Se andava a prendere qualcosa Non lo vedevo mica Vediamo dove porta Che bello ragazzi Abbiamo due mappe Il prossimo episodio Vi facciamo eh Tutte due Così ci divertiamo un pochino E li vediamo anche Vediamo Mimetico Ho questo per mimetico Solo per mimetico Dice qualcosa Ma dobbiamo ancora arrivarci Qui c'è la morte Tutto questo Solo per mimetico Per carità eh Però è un consumabile Non è Un'abilità Particolare Va bene Ok io direi che È meglio che ce ne andiamo a casa eh Perché Comincia ad essere pesante Farcela Oddio C'è rimasto qualcosa Che non ho visto qui Accogli Ah Abbiamo trovato un sacco di acciaio Abbiamo Ho trovato Ho trovato un sacco di acciaio Titano Cioè 13 12 Eh non è malo eh Sì Non è male per niente Dobbiamo potenziare il nostro La nostra build Per fare esperienza E non sarebbe malo Vediamo due strade Da uno siamo venuti Dall'altro siamo andati E questa è quella buona Bene dai sono contento E qui doveva esserci Quello che ho visto dall'alto Ok perfetto Titano Benissimo Ne abbiamo trovati tantissimi Andiamo di aprire Chissà cosa ci sarà mai Teniamo bene Non mi piace ragazzi Io Dico una cosa Prima di andare troppo avanti Perché tanto Il boss di questa zona Non ce la facciamo assolutamente A farcela Prima andare troppo avanti Io farei una cosa Facciamo così Andiamo a casa Riveliamo Ci potenziamo Parliamo per un vestigio E nel prossimo episodio E nel prossimo episodio Facciamo le due Penso due Mappe che ci sono Dei segreti Quel cazzo che è E poi Andiamo al boss Perché se no Io non ce la posso fare Sono abbastanza sicuro Che debba farmare Un altro po' Andiamo un po' Oh ma quanti cazzo di livelli Facciamo Dal 106 A 112 Sono 6 livelli Ragazzi E ci aumenta Il danno da ombra Da 730 Eh non è tantissimo Da 4 a 148 Però la vita Il vigore Da 2497 A 25 passa Mi fa piacere Lo prendiamo tutto Detto così È uscito un po' male Però A me l'abbiamo fatto 6 livelli Io ho detto Che ne faremo una decina Perché avevi fatto una decina Però Sì Diciamo a livello 112 E secondo me Non basta ancora Secondo me Quest'area è da 120 Così a naso Forse mi sbaglio È da 130 Però Comunque sì Andiamo un attimo Andante Non riesco più a parlare Andiamo un attimo a casa Parliamo Facciamo Potenziamo Divertiamo E tutto il resto Teletrasportico A casa Grazie Perché Perché sì Perché sì Perché sì È l'unica cosa Che mi viene in mente Falce d'assassino Eh Lo strumento del boia A proposito di Non dovrebbe Però volevo guardare un attimo Esatto La falce Dell'assassino Vabbè Ovviamente Mi fa meno Perché è livello 1 Però questo Ha un dot di ghiaccio Ed è veloce No è normalo È strano però Che sia normalo D'assassino Mi aspettavo qualcosa Di molto veloce Scala male Scala in destrezza Ovviamente E in senno Va bene dai Scusate Qui dopo ci andiamo Adesso ci potenziamo Vai Ah no Non è che ti devo Insomma Abbiamo capito Eh Quindi insomma Sì Ok Accidenti Bella squacquerata Che ci ha dato Efesto Rin Musamare Si specializza Nelle armi Basate Sulla destrezza E i doni Che ingannano I nemici Ah interessante Va bene Ok Eh Fatevi vedere un attimo Quella c'è da lei Non ci dà un cazzo Ancora Wow Eh no scusato Sbagliato Migliora equipaggiamento Migliora vestigio Questo Questo qui ci darà La possibilità Di fare 75 di fisico In più Wow Slurp Però mi ricordo Che Era qualcosa Che dava più fisico No questo è Per il prosciugamento E l'altro Per i coche Ci siamo Allora Mi interessa Alquanto Perché la porterei A 7 L'altro Era questa Ah perché Questo Ah perché Questo è 6 E questa qui 1200 273 No questo qui Era per qualcos'altro Per i doni d'ombra Se non ricordo male Però alla fine Abbiamo deciso Di prendere questa Che effettivamente Era meglio Va bene dai Potenziamo questa Perché comunque Giusto così Vai Ok E la potenziamo Ulteriormente Così ci ciucciamo Tutto quello Che possiamo ciucciarci E siamo a posto Potrei potenziarla Ancora di più Perché là ho visto Che ne droppano parecchi Di titano Eh Rimanebbero tre Provo di vedere L'arma Quanto mi chiedi Perché mi chiede L'arma L'arma Ma io Forse Punterei su questo Ragazzi Perché Mi ciucci di più Mi fai Da una d'ombra Che non uso Però adesso Però ciuccia tanto Ciuccia tanto Perché era questo Che usavamo noi Per ciucciare Vero Adesso io non mi ricordo Neanche Mi sono passato Un po' di tempo Scusate ma Mi sembrava Allora Aspetta un attimo Abbiamo detto Che era questa Perché queste qua Che facevano Di più Era sette Questa qui Era Vediamo cosa faceva Dovrebbe essere Dovrebbe essere Questa Che faceva Ombra in più Questa invece faceva Non mi ricordo più Perché l'avevo potenziata Però purtroppo Ho passato un po' di tempo Non mi ricordo più Cazzo Questo Ah perché Questo è il problema Di questo Adesso vi ricordo Che non ho i requisiti Perché volevo E io volevo Adesso lo uso Per l'altro Quindi è meglio E' meglio Equipaggiare Posto Migliore equipaggiamento Vestigio E lo facciamo così Così Ciucciamo ancora di più Facciamo 1423 Tantissimo 1498 Tanto 1498 Se lo facciamo 1423 Adesso non ho Il tustino Della regina Chissà che lo cazzo Si troverà Però Insomma Va bene Ok Questa è andata Questa è andata Uh Salve Jack Ma si sta popolando Lab Eh Quindi Puoi rendere Il potere di altre persone Il tuo stesso Per prendere Il loro Potremmo Per le battaglie Io ti rendere Oh anche lui Mamma mia Ne abbiamo tanti Non ci sto Capendo più un cazzo Ce n'è tanta tanta Di roba al fuoco Vediamo un po' Per combattere Aggressivamente In mischia Ma consiglio Di trasportare Poco peso Quindi da Molta potenza La mischia Quindi magari Per armi Molto potenti Magari ti da Ti da molta velocità Però se poco peso Le armi pesanti Come canzio le porti Non lo so Sarebbe da vedere Grazie Comunque Molto gentilo Vediamo pure Di genere Vestigio Vediamo Cosa ci abbiamo Ah non abbiamo Un cazzo Non abbiamo Un cazzo Non è Non ho tanto Che siamo pari Per me va bene Insomma Si Tu mia Mi dici qualcosa Cazzo Ebbene Certo Ovvio Non possiamo lasciare questo succedere Ho una pagina per te che non posso ripetere Tu potresti dirmi non preoccuparti Ma per me? Perché ora è il mio turno di aiutare tutti Ecco vedo di rafforzare temporaneamente Tutta roba temporanea questa Guardateci vedere quanto costa Questo invece Aumenta la quantità massima di cosa accumulabile Oh questo invece è permanente Dovemmo cominciare a pensare Ai doni E' difficile che io comunque arrivi alla quantità massima Molto difficile Devo fare una zona pulitissima E poi arrivare il bosco è molto difficile Quindi non andrei a sprecare queste cose Va bene Oddio Sempre molto Positiva Vediamo Scambia così mi dai Anche lei mi da questo E mi dai del potenziamento Mi fa piaciore Acquista Perché lei può darci veramente tante cose Oh Titano Questo invece non ce lo da più costa tantissimo Ok ce la facciamo anche a prenderlo Titano Lo trovo Però dai il core Ne abbiamo tanto Quindi Insomma Non è un problema per me Qui volevo prendere un altro po' di questi Perché ne ho usati un po' E siamo a posto Allora quella disperazione temporanea No ho sbagliato Non era questo Dove cacchio era quello che mi interessava a me Che ti faceva teletrasportare Eh Eh Fai una cosa che ti fa Ma permette di tornare all'ultimo vischio Ah Questo e questo Che cazzo dico Scusate Ci sono ci sono Ci sono preoccupate Accidenti a me Eh vabbè andiamo da lui Entriamo Nessuno la facciamo tutta Ok Ah beh Ci Ok 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 Vai a profondità Allora Due le abbiamo fatte Tre le abbiamo fatte Allora quindi ne avevo solo una che mi manchiava Va bene Uh Ma avete visto? Il segno del Di un drago? Un leone? Va bene Va bene dai Guardiamoci Sì Lo farò Assicurare il tuo coniglio Non ti preoccupare Vediamo cosa ci aspetta Perché sono abbastanza curioso eh Dubito che sia ancora uguale Da cavo No due erano uguali La terza vi ricordo che aveva tre chiavi Se non ricordo malo Questa ne avrà tre anche questa Cazzo quattro Complimentoni Mamma mia E siamo all'aperto? Siamo all'aperto Bene Mi fa piacere Come Oh cazzo sbagliato? Ah no Dicevo che mi faceva Eh posso solo salire di livello E non posso Mi dici dove sono adesso? No mi dici un cazzo Perché ovviamente questa è la È la La cosa della Allora dove andiamo? Ma sì andiamo qua Dai tanto uno vale l'altro Insomma sì Che problema c'è? E vediamo come va Posso potenziare la spada? Perché ho comprato il titano Me l'ho dimenticato completamente Oh salve Beh Ne abbiamo trovato un altro Oh ma ci sono quei cosi grossi Ok eh Prendilo 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 Ok ce l'avevi fatta Sì ormai era morto però Insomma Perfettico Madonna quanto togliamo Oh ma quanti potenziamenti ci dai Eh aspetta non mi va Dietro Eh Allora Ok Dovrebbe morire eh 6.000 ragazzi 6.000 È una Quantità Inverosimile Oh Abbiamo trovato la chiave Interessanto Bene Andiamo Oh E c'è il boss C'è il boss Della sezione Non del Del Insomma avete capito Insomma Beh Oggi non so parlare Ok Ok Aia Ma aspetta Mia Fa qualcosa Non fa un cazzo Non c'è niente da fare Devo ammazzare sto coso perché sennò mi tormenta Ok Perfetto Ok Siamo eh Ah ecco perché andavo così piano Eh vabbè Vai No ho sbagliato Ok Eh vabbè non ce l'ho fatto Volevo fare quello Quello eh Non mi riuscirà mai di farlo Scusate Scusate era un boss del cazzo eh Però volevo fare un po' di provole E poi qui non riuscirò muovermi E quindi è andata così di merda Vabbè pazienza Andiamo avanti E mi ha succiato qualcosa Cosa mi ciucciava sto coso? Per capirci Sì mi ciucciava il Tanto Io non uso Il mana quindi Va bene Abbiamo fatto un sacco di punti eh Una vagonata direi È una cosa positiva Questa è buona anche per far male Già che ci penso eh Comunque dà parecchio Dà parecchio È buono 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 Andiamo di qua Vediamo bene che non sia troppo grande Andiamo un po' Eh che cazzo Mi sembra molto grande Ok Eh vabbè Io Che caccia di varie inalata che hai Insomma sì Titano? Sì titano Sì 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 Sono contento Insomma sì Andiamo di esplorare bene Oh Cioè È stato facile È stato facile Vabbè io la faccio lo stesso l'area eh Perché mai Sia mai che Lasci indietro qualcosa E viene fuori un casino eh Noi possiamo sempre trovare Oh vedete Perché io dico Oh cazzarola Non me lo aspettavo sicuro Un'ordata Un'ordata No te no Non mi piace per un cazzo Te l'ho detto mai nessuno Sì ma Prendi qualcuno però Ecco qua Ecco qua cazzo No è troppo Ci sono passato da adesso Ma porca miseria Oh Ce l'ho fatta Sì sì Pensaci te io quello la che Io non lo sopporto proprio Che sta di cazzo sto coso Oh No io lui proprio non lo sopporto Ok Andata Mamma mia No Devo essere rapido Letale Devo essere Veloce Devo essere Ok Cavolo però Che pale Insomma togliete dei maroni No 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 Eh io però ho schivato brutto stronzo eh No 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 Ok Andata Ho preso proprio il volo Ok Vediamo se riesco a prendere anche lui No no Sì sì ce l'ho fatta Ok Ce lo possiamo fare Curiamaci un attimo No Ho messo quel cazzo di cosi Invece della La rigenerazione No 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 Non esiste proprio Non esiste proprio Eh questi io non li sopporto ragazzi Scusate sono una palla Dai fammi andare di qua Non lo sopporto più eh Eh non posso Schivare Eh lo so lo so Sto facendo di merda Avete ragione Purtroppo Ok Devo assolutamente Oh ce l'ho fatta Oh mamma mia Eh purtroppo non li sopporto Quelli sono La mia nemesi In sto gioco Allora siamo questi Vediamo più che possiamo Meno male che c'era lei Perché io quelli proprio Non li so gestire Sono troppo veloci E aggressivi Salve Allora Andiamo a prendere un po' di roba Allora se è rimasto solo lei A me mi va bene anche eh Povero scemo Andiamo Vai Accidenti vai Vai Non lo prendo Non lo prendo Oh Santa miserica ce l'abbiamo fatta Oh Porca miseria Scusate se l'ho fatto di merda ma Ehm Non riesco proprio a gestirli in uno spazio così piccolo E' veramente piccolo ragazzi Era piccolo eh Quelli la che si muovono così Perché fanno un danno troppo esagerato Quei piccoletti che saltano E' proporzionato Al tipo di pg che sono Quindi E' per quello che non riesco a gestirli bene Cosa vuoi fare? Esattamente Ahia Dai ci sei riuscito bene Ok ok Fatto Andata E anche questo è andato fuori Bene dai Stiamo proseguendo Sì proseguendo abbastanza bene Però non ho finito di esplorare Quindi direi farlo Ok Tu sei dietro quindi Non mi preoccupo Questo si rompe no? E' d'acciaio Di pietra Oh ma vedete che c'era qualcosa Eh Questi attivatori sono molto rari Eh preziosi Cioè volevo dire non rari Quindi è per quello che mi interessa farli Va bene abbiamo fatto tutto E adesso possiamo proseguire Di là verso la zona del boss della sezione Ecco Come si dice E stavolta facciamolo meglio eh Mi disse quello che morirà presto Ok Non c'era quello che mi... Ah scusate ma avevo mica visto Perfetto Perfetto Vediamo se ho asplorato bene Forse una piccola zona non l'ho fatta Scusate però sono... Lo so che sono una palla però Io non faccio le cose dopo sto malo E quindi la vorrei fare Questa zona qui? Non me l'aveva segnata bene forse Ma infatti c'è una zona che proprio non me l'ha segnata ed è questa Qui Ok Adesso siamo a posto È segnata tutta Possiamo andare al boss Che è di qua Ok Via Corriamo Questa volta lo voglio massacrare che... Oh cazzo Sì aspetta non mi ha loccato Perché questi non c'hanno ancora la vita Di là che sono delle caccate fa di questi Ok fatto Oh Sono contento Questo lo uccidiamo Alla prima proprio Cioè tolgo troppo Non è possibile che... Infatti Benissimo Vedo che li avevo massacrati Perfetto È andata bene C'è qualcun altro? Erano tre? Ah beh ci ha pensato lei Io ne ho pensati due Cioè come minimo deve pensarci lei a uno Ecco qua ragazzi Fatta È andata benissimo Sono contento Adesso nel prossimo episodio Facciamo le altre due sezioni E poi Pensiamo al boss finalo Di questa... Di questo dungeon Eh non vedo l'ora Sono contento Quindi ragazzi io come al solito Vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Vi saluto a Siva Ciao ciao